Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Cesare Martignan. Il traffico scorre regolare al momento sull'intera rete stradale e autostradale della Toscana. Infipili personale su strada tra Livorno-Aurelia e Livorno-Porto in direzione Livorno. Possibili disagite a Montelupo-Fiorentino e Ginesta-Fiorentina in direzione Firenze per la presenza di un veicolo fermo in carreggiata. Chiuso lo svincolo di Livorno-Porto in orario 6.20 il giorno 28 settembre sia per chi proviene da Livorno sia per chi percorre via Leonardo da Vinci con provenienza Varco Galvani. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze è chiuso per lavori fino al 5 ottobre lo svincolo Poggi-Bonsi Nord in entrata e in uscita per chi viaggia in direzione Siena. Possibili disagi per allagamento in via Soffiano a Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!